USL, eventualmente mi fate sapere, chiudo! Ok, oddio che serata ragazzi, beh appunto, vabbè va, pronto, pronto Grizzi sono Bartolengo, scusa se ti disturbo, ma la situazione è complicata perché non riesco a lavorare. Puoi aiutarmi al volo? Guarda, sono stanchissimo che stanotte sono stato con la protezione civile a tagliare alberi, raccogliere cartelloni pubblicitari... sinceramente stavo andando a dormire, eh! Lo immaginavo, ma per favore, sono sicuro che è una cosa di un attimo, non si accende il computer! Oh, parca miseria! Non credo che si è bruciato qualcosa con maltempo di stanotte! No, no, tranquillo, avevo spento la ciabatta! Strano, ma allora si vede che c'è qualche falso contatto... provate a muovere i cavi! Sì, ovvio, prima ancora di chiamarti, dai, non mi fare così scemo! La ciabatta qual è? Quella con la protezione antifulmine? Non sarà mica assaltata lei? Non lo so... Ma la ciabatta è accesa adesso? Non lo so, mi pare spenta! Come non lo sai? Ma non c'è la lucetta quando è acce... Non mi pare, non la vedo accesa! Scusa, ma da te ce n'è corrente? No, siamo senza lucetta stanotte, perché dici che potrebbe essere quello il problema? Pronto? Grizzly? Ci sei ancora?